Ha fatto prostituire una ragazzina di 13 anni e l'accusa a carico di un allevatore 61enne di Gibellina, piccolo paese in provincia di Trapani. L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Sciacca in piena notte alla guida della sua auto con la ragazzina a bordo. L'allevatore dapprima ha tentato di ingannare i militari, millantando un inesistente rapporto di parentela tra i due. Ma la storia raccontata non ha convinto i carabinieri e anche per via della sfilza di precedenti penali a carico dell'uomo hanno deciso di approfondire il controllo, portando alla luce una vicenda agghiacciante, sottolineano gli inquirenti. In realtà l'allevatore aveva poco prima accompagnato la minorenne nel suo vile per farla prostituire con altri uomini di nazionalità romena. Sono in corso indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Sciacca. Numerosi interrogatori sono andati avanti per tutto il fine settimana allo scopo di delineare tutte le responsabilità del 61enne e di verificare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda. Al termine degli interrogatori l'allevatore è stato tratto in arresto dai carabinieri. La Procura di Sciacca ha chiesto la convalida e l'applicazione della custodia in carcere che è stata disposta dal GIP. La ragazzina è stata affidata a una struttura di accoglienza. Grazie a tutti.